Il maltempo non ha fermato la festa organizzata dal comune di Castiglione d'Orcia per l'inaugurazione della nuova scuola. Dalla Filarmonica alla Castigliana fino ai bambini, tutta la comunità ha voluto celebrare un giorno atteso da tempo. Dopo dieci anni infatti, durante i quali gli alunni delle medie sono stati ospitati nei locali del comune e i piccoli della primaria, hanno trovato una sistemazione d'emergenza nell'ala del nuovo edificio, si sono aperte finalmente le porte di una struttura ampia, moderna e sicura. Oggi vedere la nostra comunità qui che si raccoglie tutta, quella del capoluogo e delle nostre frazioni insieme ai bambini, ai docenti, una partecipazione incredibile ci rende appunto pieni di gioia perché lo sforzo e l'impegno di questi anni raccogliendo le risorse per tirare su questa scuola partendo dal progetto che non avevamo e quindi trovare le risorse per il progetto e poi i finanziamenti a fondo perduto per ricostruirla questo ci dà veramente una grande soddisfazione e vedere la soddisfazione di tutti, di tutta la nostra comunità ma soprattutto gli occhi dei bambini e delle bambine che entrano in una scuola rinnovata, sicura soprattutto e ricca di stimoli, questa è la cosa che ci rende più felici.